C'è anche Nazareno Feliciani, il vigile del fuoco eroe di Onna, tra gli arrestati nell'inchiesta per le mazzette nel rilascio dei certificati di prevenzione antincendi. Subito dopo il terremoto dell'aprile del sette anni fa, era capo di una squadra di 18 vigili del fuoco che portò i primi soccorsi nel paese devastato dal sisma. Attualmente in servizio al comando provinciale di Roma si trova ora gli arresti domiciliari. Anche di fronte al suo nome, i vigili del fuoco, che nel 2014 hanno fatto scattare l'inchiesta dei carabinieri di Torino, non hanno esitato un solo attimo a far partire gli accertamenti. Onore a loro, che sono stati estremamente collaborativi e attenti anche in una situazione così delicata, ha ribadito in conferenza stampa il comandante provinciale dei carabinieri di Torino, il colonnello Arturo Guarino. La squadra mobile dell'Aquila ha denunciato in stato di libertà un cinquantenne, una ragazza ventenne, entrambi aquilani, per ricetazione e appropriazione indebita, per aver trafugato dall'abitazione di proprietà della famiglia della giovane oggetti e suppellettili di vario genere, alcuni dei quali sono stati poi rinvenuti in uno dei mercatini dell'usato cittadini. Tutto a inizio dalla denuncia di una donna aquilana, che recatesi per un controllo periodico presso l'abitazione di famiglia, ubicata nel centro storico e disabitata dopo il terremoto dell'aprile del 2009, ha notato la mancanza di vari oggetti di pregio nelle aree comuni del fabbricato. Stesso riscontro è stato fatto da un altro familiare, che recatosi a sua volta dopo essere stato informato presso la propria unità abitativa, ha notato la mancanza di suppellettili vari anche all'interno del suo appartamento. Il sopralluogo effettuato dalla mobile ha evidenziato immediatamente la totale mancanza di segni di effrazione su porte e finestre dell'edificio e senza indugio sono iniziati controlli presso i vari esercizi commerciali di vendita dell'usato della città, dove in un paio di questi sono stati rinvenuti la maggior parte degli oggetti, dei mobili e degli arredi asportati. Dalla visione della documentazione di consegna in possesso dei rivenditori, è emerso che tutto il materiale era stato consegnato in conto vendita ed in periodi diversi da un uomo aquilano, di seguito accertato essere un amico della figlia di uno dei proprietari dell'immobile, che da molto tempo non vive più in famiglia e non ha alcun tipo di rapporto con nessun componente di essa. A conclusione delle indagini sono stati denunciati entrambi all'autorità giudiziaria per appropriazione indebita, la ragazza e per ricettazione l'uomo. Ricostruzione delle frazioni ferma al palo, 41 milioni di euro circa stanziati nel 2015 per le frazioni dell'Aquila, a fronte degli oltre 400 milioni impegnati per il centro della città. Dopo sette anni, per i consiglieri comunali del gruppo Noi con Salvini, la situazione è inaccettabile. Noi abbiamo fatto l'accesso agli atti, così come lo facciamo l'anno scorso, per avere il quadro preciso di quelle che sono la situazione di fatto della ricostruzione delle frazioni. E purtroppo denunciamo, così come fatto l'anno scorso, che sulla ricostruzione delle frazioni è praticamente all'anno zero e ferma, tenendo presente un aspetto che le somme che vengono impegnate per la ricostruzione dei centri storici delle frazioni sono il 7% dell'importo che viene impegnato per quella che è la ricostruzione della città. Questo che cosa significa? Significa sostanzialmente che sulle nostre frazioni e nei centri storici sono ormai destinati a morire. Questa amministrazione aveva dichiarato ai 420 che ci sarebbe stata un'accelerazione durante il 2015. In realtà sono stati stanziati soltanto 41 milioni di euro, a differenza del centro storico della città dove sono stati 465. Il sindaco ha detto che il 2016 sarebbe stato un po' l'anno del rilancio delle frazioni che si sarebbe lavorato su questo. Ci credete? Non ci crediamo perché doveva esserlo già il 2015. Non ci crediamo perché dagli impegni che sono stati fatti per l'approvazione della parte prima delle schede parametriche le proiezioni che si fanno sono sostanzialmente uguali all'anno che è appena passato. Quindi è la solita bufala, poi arriveranno al 2017 con una promessa in campagna elettorale che ricostruiranno, faranno, diranno. In realtà sulle frazioni c'è stato e ci sarà un totale abbandono perché questa amministrazione non è interessata alla ricostruzione dei centri storici delle frazioni. Solleviamo un altro problema che è enorme. Non vogliamo che si verificano le stesse problematiche che si stanno verificando sul centro storico della città riferire ai sottoservizi. Sui sottoservizi nelle frazioni ad oggi ancora non viene posto in discussione nulla il che significa che il rischio è che una volta che saranno rifatte le case non ci saranno i sottoservizi. E quindi in maniera molto forte oggi denunciamo anche quest'altro aspetto. I rosso-blu sono tornati al lavoro agli ordini del tecnico Carlo Perrone che sta pensando alla prossima missione di campionato. Battere sabato in casa il tutto cuoio e rosicchiare punti preziosi alle dirette concorrenti alla lotta salvezza. Il cammino è ancora lungo e tortuoso ma lo spirito e la compattezza messe in mostra a Savona lasciano ben sperare l'ambiente aquilano rivitalizzato dopo le buone prove delle ultime settimane. Sul fronte squadra se da un lato c'è da sorridere per il ritorno in campo del centrale difensivo Giordano Maccarrone lo stesso non si può dire per il compagno di reparto Emanuele Pesoli che anche oggi è rimasto a riposo per una distorsione alla caviglia. In mattinata l'ex Pescara si è sottoposto ad un'ecografia ma solo nelle prossime ore si potrà capire realmente l'entità dell'infortunio e se Pesoli potrà recuperare in tempo per sabato. Chi non mancherà invece all'appuntamento con il tutto cuoio è il capitano Claudio De Sousa tornato al gol dopo quasi tre mesi proprio nel blitz di sabato scorso a Savona. E' stato importante tornare al gol per me ma soprattutto per la vittoria perché in questo momento abbiamo bisogno di punti e è stato fondamentale, è stata una bella partita. Ecco tra l'altro adesso arriva sabato il tutto cuoio, un altro scontro diretto soprattutto per cercare di accorciare sulle dirette concorrenti. Assolutamente sì, il tutto cuoio è una squadra che come noi lotterà fino alla fine per la salvezza il nostro obiettivo è quello di puntare la salvezza diretta quindi partita fondamentale sabato come le prossime tre partite del resto. Ormai sembra che l'Aquila abbia trovato una quadratura con questo 3-4-3, tra l'altro forse è migliorato anche lo spirito di gruppo. Da capitano cosa pensi? Sicuramente sì, dopo tante partite i nuovi arrivati stanno facendo molto bene, sia Francesco, Porta che Emanuele ci hanno dato una grossa mano e quindi abbiamo trovato una quadratura che ci permette di non subire sempre gol o comunque di non regalare gol agli avversari e quindi partiamo con lo avvantaggiato. Un'ultima sul modulo perché sei stato schierato dal tecnico Perrone in una posizione un po' inedita per te, esterno del tridente. Come ti sei trovato con Perna e San Domenico? Bene, bene, noi abbiamo diverse soluzioni. È normale che io sono una seconda punta però qualora bisogna giocare con questo modulo mi adatto anche a fare l'esterno a destra. C'è un po' più di sacrificio da fare ma per la squadra e per l'obiettivo finale sono disposto a farlo. Educare alla decrescita discorrendo con Serge Latouche, il grande economista francese e filosofo della decrescita, ospite di un convegno alla Facoltà di Scienze Umane dell'Università dell'Aquila. Posti in piedi per ascoltare l'intellettuale di fama mondiale sul macro tema della decrescita che la nostra conduzione attuale, locale e globale rende oltremodo urgente e necessario, consentendoci di riflettere sulla possibilità di una visione alternativa, divergente da quella che vediamo. L'incontro è stato introdotto e coordinato dalla dottoressa Silvia Nanni, docente di pedagogia dell'inclusione e formazione degli adulti presso il Dipartimento di Scienze Umane, coadiuvato dal professor Marco Antonio D'Arcangeli, docente di pedagogia generale e storia dell'educazione presso lo stesso Dipartimento. Tra i relatori anche i professori Massimo Fusillo e Luigi Gaffori. Serge Latouche sostiene che lo sviluppo scelto dall'Occidente e basato su un capitalismo e consumismo sfrenati ha ormai esaurito tutte le sue possibilità, dilapidando in modo irreversibile risorse naturali non rinnovabili, auspica quindi l'adozione di scelte mirate a costruire una società non ossessionata dal consumismo e libera dalle imposizioni della globalizzazione finanziaria priva di regole etiche. Senza immaginare una regressione o un impoverimento, Latouche descrive la possibilità concreta di una felicità sociale slegata dal possesso e dal consumismo dei beni materiali e misurata invece sul perseguimento del bene comune, sul rispetto della natura, sull'aduzione di forme di convivenza ispirate alla ragionevolezza. Ecco spiegato perché Latouche afferma che scegliere l'alternativa decrescente può essere una possibilità di vita nuova e diversa, la decrescita è scelta di qualità, libertà e autonomia, l'uomo della società della decrescita torna a essere il padrone della propria vita, un'utopia concreta, come ama da sempre definirla, il prestigioso intellettuale.